a chi dei due è venuta l'idea di creare un'azienda autonoma e di chiamarla rg a me tutte e due e è stata l'unica cosa che ci è venuta in mente all'inizio quando dovevamo decidere e perché non avevamo tantissime altre idee la mamma si chiamava raffaella la cosa più banale era dire r di raffaella g di giorgio ed è nata la regia quando è iniziata questa avventura pensavi che sarebbe diventata l'attività della vita in fondo si si e pensavo che fosse l'azienda della vita di costruire un futuro se potessi tornare indietro lo rifaresti aiuto che domanda probabilmente sì credo di sì perché non sapevo fare altro se non avessi creato le rg quale altro lavoro ti sarebbe piaciuto fare il tassista serio serio no non avevo idea ero troppo giovane un aggettivo per definire la tua giornata lavorativa pesante lunga perché il suo lavoro è importante quale di tua moglie a fa tutto lei è la metà dell'azienda quindi direi che non è importante di più qual è il miglior pregio cercare di non mollare una volta era la pazienza adesso non te lo so dire qual è il suo miglior pregio che lui ha così come lo vedete non ha filtri ci definiamo dei passisti nel senso non siamo dei vincenti non siamo dei perdenti cerchiamo di non perdere il ritmo su cosa potete dire di pensarla proprio nello stesso modo penso su quello che sarà parlato di azienda in futuro su nulla se l'altro non esistesse la tua azienda sarebbe non esisterebbe mamma mia non so rispondere scusa come vedi la rg nei prossimi 35 anni domotica la vedo più snella più giovane più tecnologica dille qualcosa di bello che pensi di lei sei la numero uno digli qualcosa di bello che pensi di lui che sta invecchiando bene una definizione di rg in tre parole bella familiare e giovane dai un'azienda fantastica che esiste a 35 anni il 2018 sarà un anno vincente sarà un anno di transizione saluta chi ti sta guardando ciao ciao terribile più imbarazzante di lui